Siamo venuti ad ascoltare qui i cittadini non più di 3-4 settimane fa insieme al Comune di Trieste e il Sindaco. Abbiamo capito che effettivamente c'è l'esigenza di avere qualcosa di commerciale, ovviamente una zona molto desolata, sola dal punto di vista commerciale. Abbiamo pensato appunto di dare a disposizione per un periodo di qualche mese, per fare un test, un'area dedicata al parcheggio, che ovviamente oggi diventa per la prima volta un mercato. Diciamo che c'era molta richiesta da parte dei residenti perché non avendo da tempo un punto vendita di generi alimentari era una necessità proprio molto sentita. E per rispondere alle tante richieste dei residenti che oggi è stato inaugurato il mercato di prodotti agricoli a chilometro zero dietro l'edificio Ater di via Montasio ad Altura. Sono state fatte emozioni in Consiglio Comunale e anche la circoscrizione con il presidente Bernovic si è mossa in modo incisivo verso la Giunta, il Sindaco. E quindi abbiamo ritenuto di cercare di provare a fare questo mercatino che parte oggi in via sperimentale, ma credo che visto il riscontro possa essere un buon avvio. L'iniziativa si terrà in via sperimentale nelle giornate di sabato a settimane alterne dalle 7.45 alle 14 fino al mese di maggio compreso nell'area dedicata ai parcheggi. Nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni anti-covid tengono a precisare gli organizzatori. Presenti produttori agricoli consorziati che propongono la loro merce rigorosamente a chilometri zero sui furgoni attrezzati e in piccoli banchetti di vendita. Siamo un gruppo di aziende agricole e facciamo un po' il servizio alimentare, dei mercati alimentari un po' in giro per tutta la città. Io credo che potrebbe essere veramente un là innovativo non solo per questa zona di altura ma anche per altri rioni in competenza di Ater ovviamente che potremmo mettere a disposizione dove non ci sono esercizi commerciali.